Un viaggio di due giorni in programma il 9 e 10 settembre lungo le strade più suggestive del Parco Gran Sasso e Monti della Laga per essere vicini ai luoghi feriti dagli ultimi terremoti. L'iniziativa è del Porsche Club Abruzzo Molise che ha organizzato il primo Porsche Rally Inter Club dei Parchi d'Abruzzo nell'ambito della campagna nazionale Viaggio nel Cuore dell'Italia. Noi siamo del Porsche Club Abruzzo Molise e a prescindere dal piacere delle nostre auto però abbiamo l'affetto per la nostra regione. Il nostro è un tentativo, una piccola goccia però è un tentativo di dare una mano al turismo anche ferito oltre che le nostre zone ferite e per questo abbiamo progettato questa manifestazione. Siamo 50 macchine, abbiamo aperto le iscrizioni al mattino, chiuse la sera per sold out ma il nostro intento, questa non è la fine, con la manifestazione non finiremo il nostro progetto, non lo concluderemo ma inizierà un progetto molto più ampio perché ho intenzione di portare 100, 150 auto, quindi 300 persone nelle nostre montagne. Si parte la mattina di sabato 9 settembre dall'Aquila, direzione Capannelle per giungere fino a Campo Tosto e poi a Torricella Sicura, Teramo e a Giulianova. Domenica 10 settembre invece è prevista la partenza alla volta di Campo Imperatore per raggiungere Capestrano dove è in programma una colazione nell'antico convento di San Francesco. Ci sono tante persone che non conoscono il porto della provincia di Teramo e della città capoluogo, l'Aquila e che in questa occasione avranno modo di conoscerla. Il Porsche Club Abruzzo Molise si impegna anche a realizzare un filmato e un calendario con le migliori foto delle due giornate dal titolo Porsche nel cuore d'Abruzzo, materiale che sarà distribuito ai club europei allo scopo di incentivare il turismo nella regione verde d'Europa. Crediamo di poter riproporre e soprattutto in qualche modo arricchire la proposta di Open Day Abruzzo nell'edizione Winter che sarà nel Ponte dell'Immacolata l'8 di dicembre. In questo modo speriamo anche di dare corso all'accordo di programma, al protocollo firmato da me e dal direttore generale del MIBACT Nini Cutaia per quanto riguarda le attività di spettacolo da mettere in corso nell'area cratere e soprattutto nel Terramano con una cifra abbastanza congrua che ha grandissimi nomi della cultura nazionale e internazionale. Noi stiamo facendo moltissimo un lavoro sulle aree interne che sono decisamente molto più importanti di queste cose che capitano e che domani. C'è tutto un disegno, io stesso mi occupo anche della quinta area che abbiamo messo in modo che è quella del Gran Sasso, dei Monti della Raga e questo rapporto sta venendo fuori. Grazie. Grazie. Grazie.